Salve a tutti, oggi vorrei parlarvi di un problema scottante, il negazionismo dell'Olocausto. Quali sono le origini di questa teoria? Si è portati a credere che le origini di questa teoria siano nell'estrema destra, in particolare in modo il neonazismo. E quando ci si ritrova davanti a qualcuno che parla di negazionismo l'unica risposta che può venire in mente è che essendo idee naziste, antisemite ed estremiste allora devono per forza essere false. Se vi interessa vi consiglio di guardare il video fino alla fine per evitare fraintendimenti di vario tipo. In realtà uno dei padri del cosiddetto negazionismo era Paul Rassinière, anarcho-socialista, pacifista, partigiano antirazzista, talmente rivoluzionario da essere cacciato dal partito comunista francese nel 1922, fu anche brutalmente torturato dalla Gestapo per 11 giorni e tanto da rimanere gravemente invalido a vita, fu detenuto poi nei campi di concentramento. Nelle sue opere descriveva le condizioni disumane, terribili e le morti nei lager, ma secondo lui le testimonianze degli altri detenuti erano esagerate, inesatte, incoerenti, insomma ognuno ha avuto la sua esperienza. Era convinto che le camere a gas non fossero mai esistite. Che la morte degli ebrei fosse dovuta alle pessime condizioni nei lager, non c'era alcun piano nazista per lo stermine vero e proprio degli ebrei. Inoltre secondo lui nei lager morirono circa 1,6 milioni ebrei. Detto questo allora mi pare palese che egli non possa essere definito negazionista, poiché lui non negava affatto la realtà storica dell'olocausto, lui ne era stato vittima, semplicemente credeva che i racconti degli altri testimoni e le ricostruzioni storiche erano gonfiate ed esagerate, l'unica cosa che negava erano le camere a gas. Anche se ci trovassimo davanti a un antisemita, dal punto di vista logico, come spiegavo in altri video, non possiamo dire che essendo antisemita le sue idee sull'olocausto, sono sbagliate, sarebbe un'argomentazione a dominem, cioè al posto di argomentare in maniera corretta ci metteremmo ad accusare chi sostiene quell'opinione, è un errore perché la motivazione per cui si sostiene un'idea non ha pertinenza con la verità o la falsità di quest'ultima, è un discorso lungo e complesso, lo spiegavo già in altri video. E' come se una persona ha il movente per commettere un omicidio, ciò non dimostra che effettivamente egli lo ha commesso. Infatti se un delitto è commesso senza moventi apparente lascia tutti spiazzati. Un conto è trovare il movente, un altro è trovare le prove che il fatto sia stato commesso. Vi ho fatto questo discorso sulle argomentazioni a dominem perché è tra le ragioni per cui molti sostengono le tesi cosiddette negazioniste. E' che senza la Shoah non sarebbe mai esistito lo Stato di Israele e gli USA non sarebbero mai diventati la più grande potenza mondiale. Entrambe le fazioni commettono argomentazioni a dominem. Se ci pensate, il mondo prima della Shoah era quasi completamente antisemita, non era stato Hitler ad inventare l'antisemitismo, è sempre esistito. Anche quelli che erano contro Hitler, come ad esempio Churchill, erano antisemiti. Se il mondo non fosse rimasto inorridito dell'olocausto e commosso dalle testimonianze dei superstiti col cavolo che il mondo avrebbe accettato l'esistenza dello Stato di Israele, non solo, dato che effettivamente questo nasce dall'invasione dello Stato palestinese, con il conseguente sterminio dei palestinesi da parte degli israeliani. Se io mi permetto di dire una cosa del genere vengo preso per antisemita, ma con ciò non dimostri che la Palestina è stata letteralmente mangiata dello Stato di Israele e che i palestinesi sono stati quasi sterminati. Con questo non voglio negare che quelli di Hamas siano terroristi, ma questo non dimostra che le motivazioni che li portano a gesti estremi non siano valide. E comunque Arefati e Aboumazzen fino a prova contraria con loro non c'entrano nulla. Adesso anche le Nazioni Unite dopo tantissimi anni hanno capito che Israele ha violato i patti, ma ora è troppo tardi per tornare indietro. Cioè sono passati da vittime a carnefici e non sarebbe la prima volta che accade. Non esiste contraddizione tra l'avere subito lo sterminio da parte dei nazisti e avere sterminato i palestinesi. I negazionisti cadono nelle fallace a dominem quando dicono che l'olocausto non è mai avvenuto perché senza di esso non sarebbe mai esistito lo Stato di Israele, per quanto sia stata una tragedia utile a fine politici e propagandistici. Lo stesso vale per l'America, che ne è uscito a vincitrici in guerra anche dal punto di vista morale, perché i tedeschi sono cattivi e gli americani sono buoni. Ma tutto ciò non dimostra per niente che l'olocausto non sia mai avvenuto, o meglio, che l'entità della strage sia minore rispetto a quella raccontata dalla storia ufficiale. Le due cose sono vere. L'olocausto è avvenuto realmente ed è anche stato strumentalizzato per favorire l'interesse degli USA e dello Stato di Israele, anche se non essendo uno storico non posso valutare chi ha ragione o torto. La cosa da sottolineare ancora una volta è che i cosiddetti negazionisti non negano veramente che l'olocausto non sia mai avvenuto. Ovviamente è più facile dimostrare che l'olocausto è avvenuto e che negarlo è una cretinata. E quindi etichettare come negazionista chi contesta la storiografia ufficiale genere questa confusione. Anche perché se non sei uno storico ricercatore specializzato in questo argomento non puoi discutere sulle cifre delle vittime o sulle camere a gas. Questo è quello che in logica si chiama uomo di paglia, cioè dimostrare una tesi più facile da dimostrare. Questo uso improprio di questa parola ha generato il negazionismo in senso letterale del termine, cioè negli anni qualche deficiente ha davvero iniziato a credere che l'olocausto non sia effettivamente avvenuto. Questo è anche grazie al fatto che queste persone che contestano la verità storica ufficiale ovviamente sono in minoranza e vengono fatti passare per vittime perseguitate, e se sono perseguitate è perché dicono cose scomode. Si chiama effetto underdo, cioè cane bastonato. Ma se poi la gente inizia a credere che l'olocausto non sia veramente accaduto allora chi sostiene che sia accaduto può veramente allarmarsi, soprattutto in tempi come questi in cui l'estrema destra sta tornando più forte di prima, vedi Trump, Putin, Le Pen, Salvini e Casapound. Per concludere, il cosiddetto negazionismo in origine non negava l'olocausto ma cercava di ridimensionarlo e spesso giustificava le sue tesi in modo fallace, cioè accusando di interesse politico chi sostiene la storia ufficiale. Questi interessi politici possono anche esserci per davvero, ma ciò non ci porta a capire chi ha ragione. I negazionisti vengono poi accusati di essere anche loro mossi da interessi politici, cioè di essere neonazisti, cadendo nella stessa fallacia. Sta di fatto che effettivamente il mondo non avrebbe mai smesso di essere antisammita e non avrebbe mai accettato la nascita di Israele. Infine, l'uso improprio della parola negazionismo ha fatto davvero credere ad alcuni fanatici estremisti che l'olocausto non sia mai avvenuto. Cioè, in estrema sintesi, tutta questa discussione si basa su errori logici. Per sapere chi ha ragione dovremmo fare delle ricerche storiche approfondite, ma io non sono uno storico, non conosco la metodologia storica, e non so fare questo tipo di ricerche. E voi? Vi lascio con questa domanda, vi saluto, alla prossima!